Tra l'acqua della Niene, infatti, adesso ve lo vedo, qui vedete che qui stiamo ai limiti della villa della Niene, loro fecero un buco, un tunnel, dal lago della Niene, che c'è il superattivo di un'altra parte, quindi passa sotto la città, e qui arrivava l'acqua, questa era la prima portata, da qui dava acqua a tutto il resto, e quella è la dea Tiburtina, che porta, non so se si mette a un piano, ti butto, questo ragazzino, ti amo, che rappresenta, che rappresenta la sua, iniziava così, scendeva così, e poi, Grazie